Ancora qui dal Climate Fest, questa volta abbiamo cambiato stand e come potete vedere siamo qui con l'associazione Ambiente e Acqua, con Laura e Marianna, che sicuramente ci sapranno spiegare benissimo della vostra associazione e cosa siete qua a fare proprio oggi, giusto? Sì, esatto. Noi siamo un'associazione, una onlus, che si occupa di educazione ambientale ed educazione alla cittadinanza attiva. Seguiamo diversi progetti, sia con le scuole che con le famiglie, con la cittadinanza. Di solito partecipiamo a dei bandi, quindi le nostre attività sono finanziate e sono gratuite per chi partecipa. Cerchiamo di avvicinare soprattutto i più piccoli al rispetto alla tutela dell'ambiente. Oggi siamo qui per conto di Parco Montestella, secondo un progetto che adesso vi illustrerà Laura. Quindi lasciamo subito la parola a Laura, direi. Sì, allora, noi siamo qui per un progetto che si chiama Lavori al Montestella, partecipazione e territorio. È un progetto finanziato da Fondazione Comunità di Milano e Ambiente Acqua è proprio capofila di questo progetto. Il progetto è alla sua seconda edizione, quindi c'è stata una prima parte in cui si è andati al Montestella per valutare lo stato del parco. Sono stati fatti dei monitoraggi, ad esempio, della vifauna, degli insetti che continuano. E in questa seconda edizione si vuole andare avanti con questi monitoraggi, quindi la caratterizzazione ambientale. Ma anche riqualificare l'area, quindi renderla ancora più vivibile e più sostenibile. Far sì che la cittadinanza possa vivere e conoscere questo parco. Ed ecco anche perché siamo qui oggi, quindi per far conoscere un po' il parco Montestella. e quindi tutta la parte di coinvolgimento della popolazione e della cittadinanza, sia agli adulti con progetti per adulti, sia delle scuole, sia elementari che partecipano dei percorsi, sia magari anche i licei con i PCTO. E quindi far sì che possa essere un luogo dove riscoprire la socialità in un momento in cui abbiamo avuto delle difficoltà legate alla pandemia. Quindi questo un po' diciamo in generale, ovviamente il parco è fruibile da tutti, quindi anche da persone magari con delle disabilità. E per questo progetto noi ovviamente ringraziamo tantissimo il Comune di Milano che si occupa della gestione del verde, ma anche i nostri sponsor che sono MM e Levissima, che si occupano appunto di finanziare e di aiutarci in questo progetto per la comunità, per tutti noi fondamentalmente. Essendo noi di Milano News è sempre bello sentire parlare di tenere viva la nostra città, tenerla anche giovane, uno spazio che si è aperto non solo per bambini ma anche per adulti. Ed è bellissimo vedere un'associazione del genere qui al Climate Fest. Grazie. Vediamo anche qui sul tavolo che sembrano dei piccoli pezzettini da attaccare, avvicinare, immagino sia un'attività che farete. Esatto. Sì, oggi proponiamo diverse attività, questa prevede una sorta di caccia al tesoro. Noi abbiamo nascosto delle tessere che devono essere cercate dai bambini, una volta ricomposte si formano degli animali di cui parliamo e poi si racconta una storia su un picchio. Poi ci sono delle altre attività, i bambini possono fare delle medaglie raffiguranti gli animali del gioco e poi facciamo dei dibattiti sulle buone pratiche per rispettare l'ambiente, quindi sempre dei lavoretti da decorare da parte dei bambini e faremo poi domani anche dei cartelloni proprio su tematiche legate ai cambiamenti climatici. A che ora inizia l'attività oggi? Allora, in realtà siamo qui tutto il pomeriggio, quindi quando i bambini vogliono venire noi gli facciamo fare appunto queste attività, questi giochi. Nel caso di un cittadino che volesse partecipare attivamente alla vostra associazione c'è un modo per farlo? Avete qualche contatto da lasciarci dove potetevi trovare come raggiungervi? Sì, allora noi abbiamo un sito, quindi basta cercarci come Ambiente Acqua Onlus e subito compare diciamo quello che è il nostro sito, se no sui social, sia Instagram che Facebook. Quindi siete alla ricerca di volontari? Allora, noi se qualcuno vuole collaborare con l'associazione perché no, quindi tenete conto insomma che noi ci occupiamo di divulgazione ambientale, tematiche legate all'ambiente e niente, questo insomma, a noi sta a cuore far conoscere anche proprio quello che è l'ambiente urbano dove si vive, che spesso è un po' bistrattato, si conosce poco e invece abbiamo tantissimo intorno a noi basta solo guardarci intorno. Quindi grazie ancora e mi raccomando andate a vederlo perché come sappiamo qui siamo tutti di Milano ed è importante vivere Milano nel miglior modo possibile, anche l'ambiente verde che ce n'è tanto e non sempre viene sfruttato abbastanza. Grazie ancora. Grazie. Grazie.